Ciao sono Luca di Mr. Gadget e sono pronto a presentarvi un altro prodotto molto interessante arriva in questi giorni sul mercato Samsung Galaxy Tab S4 Galaxy Tab S4 prosegue la grande tradizione di Samsung nei tablet tablet che tra l'altro sono realizzati con molta cura, con la parte posteriore in vetro con veramente una cura costruttiva che ha pochi uguali sul mercato ora anche con una caratteristica, nello spazio che una volta era quello di un tablet da 9,7 pollici è stato spinto un display Super AMOLED tra l'altro da 10,5 pollici le cornici sono state ridotte sensibilmente ma non troppo perché ci deve essere sempre lo spazio per impugnare il proprio tablet e ora la ratio è quella di 16 decimi e poi attenzione perché c'è un altro aspetto molto importante nella confezione di Galaxy Tab S4 e compreso anche il pennino che introduce tutte le funzionalità tipiche del Galaxy Note anche mantiene più che introduce tutte le caratteristiche tipiche del Galaxy Note anche sul Tab S4 diamo dunque un occhio da vicino anche all'aspetto, abbiamo detto 10,5 pollici cornici che sono state ridotte sensibilmente, altoparlanti che vengono posti agli angoli del dispositivo altoparlanti tra l'altro questi 4 sono molto importanti perché vengono utilizzati tutti insieme quando si utilizza il Dolby Atmos che è inserito in questo Tab S4 sulla parte posteriore fotocamera non c'è sensore delle impronte digitali perché questo dispositivo si sblocca o con un codice o con il riconoscimento del viso nella parte superiore c'è il pulsante di accensione e c'è il controllo del volume sapete che per noi si chiama volume rocker la parte inferiore l'attacco per le cuffie da 3,5 mm e poi il connettore USB Type-C vediamo dunque in orizzontale in questo momento il tablet che si può sbloccare tra l'altro con il volto anche quando viene utilizzato in orizzontale avvicinando il pennino al display capita quello che succede anche con il Galaxy Note avete cioè il menu contestuale di ciò che potete fare con il vostro pennino dalla selezione intelligente, la scrittura sullo schermo, il messaggio live, la traduzione e poi anche l'accesso a pen up se volete potete aggiungere ulteriori collegamenti di ciò che potete fare con il menu rapido del pennino semplicemente utilizzando questo menu vi faccio vedere un'altra cosa anche c'è adesso la pagina di Bixby Home io non l'ho ancora utilizzata potete essenzialmente utilizzare questi dettagli anche quelli di Bixby Home anche sul tablet e non solo sul vostro telefonino si rumoreggia il fatto che Bixby Home dovrebbe arrivare in Italia nell'arco di qualche mese probabilmente in corrispondenza con il Mobile World Congress di Barcellona con il lancio dei prossimi prodotti di Samsung ma qual è altra caratteristica importante per questo tablet? beh, credo che forse la più importante sia questa, sia la modalità DEX quella cioè che permette di utilizzare il vostro tablet con una modalità simil desktop una modalità tra l'altro che può essere attivata anche con la connessione di un cavo che dall'uscita USB Type-C va verso un monitor esterno quindi un monitor o USB Type-C oppure HDMI faccio notare insomma quello che viene fatto poi con questa modalità avete cioè la possibilità di accedere ad alcune delle applicazioni che sono diciamo ottimizzate per questa modalità di utilizzo c'è anche un aspetto importante quando collegate questo tablet ad un monitor esterno attraverso il cavo potreste scegliere anche di utilizzare i due dispositivi in modo completamente disgiunto la modalità DEX si attiva in automatico quando voi collegate la tastiera che non è in dotazione su questo smartphone ma va comprata a parte può essere una qualunque tastiera Bluetooth anche non di Samsung dicevo quando collegate questo dispositivo ad un prodotto esterno potete utilizzare in modo disgiunto i due sistemi quindi ad esempio guardare una presentazione sul vostro monitor utilizzando proprio Samsung DEX e giocare con il vostro tablet utilizzando altra modalità vedete dunque che questa è una delle funzionalità forse più interessanti di questo tablet e peraltro quello che secondo me è positivo come anche per il Galaxy Note 9 il fatto che non ci sia bisogno più di un'interfaccia attraverso un accessorio ma che la modalità DEX sia immediatamente disponibile la batteria è da 7300 mAh ci sono 4 GB di RAM all'interno c'è un processore che è lo Snapdragon 835 c'è ovviamente anche una fotocamera che si utilizza con Bixby Vision vedete come ci sia l'opzione di Bixby Vision immediatamente disponibile sulla vostra fotocamera la fotocamera tra l'altro è di buona qualità avete diverse modalità di utilizzo scusate che sono riuscito ad uscire dalla fotocamera torno, io come sempre sapete che resetto per evitare di farvi leggere quello che non dovreste i prodotti priva di utilizzarli allora dicevo il supporto per gli adesivi poi Hyperlapse, la modalità automatica, la modalità bellezza, la modalità pro, la modalità panorama e poi la modalità HDR queste sono le modalità di scatto della fotocamera che peraltro per essere la fotocamera di un tablet è veramente più che valida davvero una buona qualità insomma un tablet con un costo molto alto perché 799 euro sono veramente tanti soldi ma con un'ottima qualità e un'ottima funzionalità quello che sottolineo è soprattutto la qualità del display perché questo Super AMOLED è stupendo e devo dire che i contrasti visti su un display di questo genere in unione al Dolby Atmos rendono questo anche un prodotto multimediale molto interessante 799 euro dicevamo il costo per voi questo è un prodotto interessante soprattutto vi piace come sempre io sono molto interessato a sapere il vostro parere sui prodotti che vi introduco se volete iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto date un occhio magari anche al sito mrgadget.net e vi ricordo che vi aspetto anche in versione podcast su SoundCloud ciao a tutti da Mr. Gadget ciao a tutti ciao a tutti